Ben trovati a tutti quanti voi, ci avviamo verso il ritorno della Juventus in Italia, io vi invito a contestare Allegri allo Stadium di Torino il prossimo 9 agosto, quando ci sarà il Vernissage, che solitamente si faceva a Villa Arperosa, ora sapete i motivi perché non si fa più, e ogni video che faccio vi ricordo fino al 9 di contestare Allegri, contestare Allegri, contestare Allegri. Quindi, come sapete, in più circostanze, io ho attaccato gli acchiappaclick, questi ragazzi che si sono dati un mestiere per vivere, per campare. Allora, vi dico subito che cosa si fa per campare? Naturalmente, quante volte ho attaccato Colpo Gobbo? Tante volte, perché non sono stato d'accordo con lui. Gli ho detto anche in presenza, nella live bianconera, che abbiamo fatto, e che vi invito a rivedere sul canale YouTube di Live Bianconera, oppure sul canale Twitch di Live Bianconera. Però, c'è un però, colpo Gobbo, guarda un po', dopo quella live ha cominciato ad attaccare la gazzetta dello sporco. Ah, vi ricordo, adesso mi pare che non ce l'ho qua, o ce l'ho forse in redazione, però ve la farò vedere. Mi ha scritto l'Avvocato di Cairo. Dopo Sabatini e Allegri, mi ha scritto anche l'Avvocato di Cairo. Poi farò un video dove vi leggerò queste lettere. Ve le leggerò. Perché naturalmente scopro di essere attenzionato da questi personaggi. Non sapevo che il mio piccolissimo canale potesse arrivare a questi personaggi. Che poi, in queste lettere, mi dicono per fine e per segno che cosa io ho detto loro nei video. Forse Cairo. Un poco, poco, poco di ragione ce l'ha per come l'ho trattato. Però questo mi fa piacere, perché almeno quello che dico lo sentono. Dicevo, non è che devo io andare a disquisire sul lavoro di Colpo Gobbo piuttosto che di altri personaggi che usano questa piattaforma. Però, chi si espone, come mi espongo io, ci barcameniamo anche in critiche. Io sono stato uno di quelli che a Colpo Gobbo lo ha criticato, però sto notando che Colpo Gobbo da un po' di tempo si va giù duro sulla gazzetta dello sporco. Guarda un po', guarda un po'. La notte Colpo Gobbo, come fa d'altra parte sempre, ha fatto una diretta, una live, sulla partita della Juventus contro il Real Madrid. Come è giusto che sia? Io credo che quella sia poi l'espressione più vera di questo tipo di lavoro, quando non si prendono le cose che dicono altri, ma quando si commenta, guardando con la propria prospettiva, quello che si sta verificando. Ed è proprio quello che io immagino. E devo ammettere che Colpo Gobbo sotto questo aspetto, diciamo, negli ultimi giorni è stato proprio preciso. perché guarda, commenta e dice la sua, c'è chi può piacere, c'è a chi non può piacere. E io sono uno di quelli che lo ha criticato molte volte anche in presenza. Chi si è risentito, guarda un po', chi si è risentito della live di Colpo Gobbo, chi si poteva risentire, il più grande approfittatore di queste social, che ha dovuto appendere la toga al chiodo, ammesso che l'abbia avuto, è dovuto fare, di necessità a virtù per andarsi a pagare la vacanza. E mi riferisco ad Avzim Out, sgamato per non essere uno juventino, ma solo uno juventino opportunista, un napolista opportunista, un milanista opportunista, un interista opportunista, e via dicendo. Un pistocchista opportunista, un zilianista opportunista, cioè lui, può mai fare le pulci a Colpo Gobbo che fa una formalissima, rispettabilissima diretta durante la partita alle tre di notte e per questo io credo che vada elogiato lui e tutti coloro che hanno fatto la notte, la live, perché hanno raccontato finalmente e non si sono fatti raccontare la partita da altri, perché se mi consentite io do più credibilità ai tifosi della Juventus che fanno le dirette mentre gioca la Juventus che non a quei ciarlatani di Dazzoli piuttosto che di Sky che di media e di via dicendo. E allora Avzim si è sentito bruciare il culo del fatto che Colpo Gobbo ha fatto la diretta e ha fatto un bel record di ascolti. Questo cosa significa? Significa che mi dispiace dirlo, ma io sono reale, che ha fallito anche in questo, perché se Colpo Gobbo fa una diretta alle tre di notte fino alle quattro di notte e aumenta i telespettatori ha fatto del lavoro, ci ha messo il suo, c'è impegno. Lui, come tutti quanti coloro che hanno fatto rispettabilmente, il signorino della provincia di Benevento invece era in vacanza e non ha fatto la live e fa le pulce agli altri. Però, c'è un però, senza entrare nel dettaglio per una questione di rispetto, perché poi rispetto un po' tutto, alla fine poi io rispetto un po' tutto, se riesco a trovare, vi dico perché Avzim si sente di bruciare il culetto. Ve lo dico io perché se trovo vediamo se riesco a trovare un po' no, abbiate un po' di pazienza perché eccolo qui, eccolo qui, abbiamo i dati del canale di Avzimaut, abbiamo anche i dati dei canali di Colpo Gobbo, e manco a farlo apposta, Avzimaut è crollato totalmente quando fa le live, quando fa le dirette, quando fa i video, mentre Colpo Gobbo ha avuto un incremento. allora io che ho anche altri dati, perché non pensiate che noi siamo sprovveduti, non lo pensate questo, perché se ci mettiamo a fare il lavoro lo facciamo, poi come si deve fare il lavoro, e allora l'attacco di Avzim a Colpo Gobbo è palese perché lui sta crollando perché si dice solo bugie, fesserie, fa e sfa le notizie, dà le proprie interpretazioni che non le pensa nessuno, che non fanno opinione, non fanno influencer, e quindi è crollato, ha dimezzato gli ingressi. potete anche voi ricercarlo, non dico i numeri perché per una questione di correttezza io non dico i numeri, potrei dirli, ma non le dico i numeri. Colpo Gobbo ha invece quasi raddoppiato gli ingressi e dato che queste cose Avzim Avzim le sa, e allora ma davvero possiamo pensare che questo sono 15-20 mesi che sputa fango e veleno sulla Juventus al pari di Pistocchi, di Ziliani, di Varriale e di altri e voi pensate che davvero chi va a disdire Dazon piuttosto che Sky poi si va a guardare Avzim e no, non se lo guarda più, magari si prende anche le cazzate di Colpo Gobbo se le dovesse dire ma quando meno in buona fede e allora Avzim ha attaccato. Ecco il motivo perché Avzim ha attaccato Antonello Colpo Gobbo e dato che noi non le facciamo passare certe cose no, perché poi ci fastidisce Avzim che fa il bulletto e che abbiamo sgamato totalmente ormai vive sulle fake news venendo meno ai richiami del Presidente della Repubblica del Capo dello Stato appunto Presidente della Repubblica del Papa ma può anche non essere cattolico ma è comunque cittadino italiano e quindi il Capo dello Stato ha richiamato sulle fake news invece lui guarda un po' va a fare le pulci a chi gli ha rotto il panariello come Colpo Gobbo perché i numeri che ha fatto Colpo Gobbo nella live di notte non li fa più quello parlando solo male di Allegri perché lui aumenta solo quando parla male di Allegri e francamente lo fa anche Cassano che è lo scemo d'Italia lo fa anche Adani che è l'africano d'Italia cioè praticamente lo fanno coloro che ormai non hanno più nulla da perdere e per rimettersi in gioco parlano male di Allegri troppo facile perché loro piace vincere facile e mi dispiace gli è andata male ad Al-Sim perché lo abbiamo sgamato anche in questa situazione sgamato per cui io che ho sempre criticato Colpo Gobbo no perché io non sono d'accordo per come lui conduce determinate cose guarda un po' nel momento in cui Colpo Gobbo cambia la prospettiva di comunicazione nel momento in cui Colpo Gobbo riesce ad essere costante preciso nel voler dare una informazione vera reale vista dai propri occhi poi si può essere d'accordo o non può essere d'accordo ma non ascoltata dai canali televisivi che ci iniettano del veleno intellettuale e quindi è stato attaccato da Avasim che si è visto dimezzare gli ingressi negli ultimi mesi e lo facevano gli facevano fare la villa tutta guanda in parlando male della Juve e su questo io devo ringraziare i pochi che mi ascoltano pochi ma buoni i quali hanno praticamente messo all'angolo questo personaggio di Avasim perché avrà anche i suoi numeri molto alti molti dei quali comprati ma non ha la credibilità non ha nessuna credibilità proprio nessuna credibilità la puntualizzazione era giusta ed ora entriamo invece nel merito della partita perché vi ho fatto il post partita vi ho fatto il commento oggi su quella notizia virale che mi è data fastidio tantissimo che è quella relativa a Morata più lo sento questo nome più mi girano i coglioni lo dico apertamente scusatemi per la parola e allora siamo ma dico per il mio modesto parere sulla stessa lunghezza d'onda dello scorso anno e di due anni fa è una Juventus che fino a quando riesce ad attaccare perché che cosa si verifica la Juventus nei primi 25 minuti ha giocato bene ha fatto due gol e poteva fare altri poi dal 20 25 in poi arrivano i primi segnali e le prime indicazioni della panchina e lì finisce la Juventus perché la panchina gli dice alla squadra di indietreggiare totalmente to court e allora si mettono i difensori nell'arietta piccola e la Juventus subisce 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 qualche volta ti va bene il più delle volte ti va male e la Juventus arretra in classifica esce fuori dalle coppe quest'anno non c'è questo rischio c'è la Coppa Italia ma uscirà anche dalla Coppa Italia nei primi 20-25 minuti la squadra si esprime bene perché il vergognoso personaggio seduto in panchina non dà assolutamente indicazioni quando comincia a dare indicazioni la squadra finisce fallisce totalmente ed è stato così anche l'altra sera primi 20-25 minuti il calcio champagne il calcio spumeggiante Juventus che aggrediva gli spazi i giocatori che volavano sulle fasce i centrocampisti che si inserivano poi dal 25 in poi sono arrivati le prime indicazioni di quei due stale olio che stanno in panchina con il rispetto di stale olio di Ciccio e Franco per il rispetto di Ciccio e Franco che stanno seduti sulla panchina che sono appunto i due allenatori della Juventus uno più cretino dell'altro questa è la realtà dei fatti ora ci volete girare intorno quando la squadra gioca senza indicazione va forte ma tante volte la Juventus è partita benissimo negli altri anni poi come arriva l'indicazione della panchina finisce la Juventus e questo che cosa significa? significa che la squadra è condizionata negativamente dall'invertebrato seduto sulla panchina negativamente cioè questa Juve è una Ferrari senza diciamo un ottimo pilota se vogliamo fare proprio un parallelo particolare della proprietà quindi il problema è sempre quello e siamo sulla stessa lunghezza d'onda può andare bene una volta può andare bene l'altra sera con il Real Madrid ma non va bene le altre volte se questo è il canovaccio l'anno scorso quante volte la Juve è la prima mezza la Juve gioca bene la Juve gioca bene la Juve gioca bene poi si alza il distruttore dalla panchina arretra la squadra e finisce la Juventus calcio non è una scienza che l'ha studiata per capirla calcio è di facile comprensione per chi segue per chi ha un po' di attenzione per il calcio ecco perché bisogna assolutamente dare diciamo un un cambiamento di rotta bisogna contestare contestare allegri contestatelo contestatelo non può farla ancora una volta liscia non può basarsi su qualche uno a zero andare in conferenza stampa e prendervi per culo tutti quanti quello fa usa quelle conferenze stampa per prendere per culo tutto l'universo calcistico appoggiato poi dai media questa è una cosa che mi fa schifo questa è una cosa che francamente mi mi fa venire i nervi ecco perché chiedo di contestarlo contestatelo 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 mi fermo qui e vi ringrazio per avermi seguito il prossimo video avremo modo di farlo su determinati altri argomenti grazie a tutti quanti voi per aver seguito questo 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 video se siete soddisfatti mettete un like se non lasciate stare se volete fate anche un commento e iscrivetevi al canale mettete la campanella delle notifiche così potete essere avvertiti ogni qualvolta c'è un video che noi vi proponiamo a tutti quanti voi un gentile grazie per aver seguito buon proseguimento grazie a tutti